Il giorno e la storia. Oggi è l'8 dicembre. 1941. USA. Il congresso approva la dichiarazione di guerra contro il Giappone. 1970. Fallisce il golpe di Junio Valerio Borghese. 1980. New York. Assassinato John Lennon. Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del giornale di Brescia. Con la chiusura del concilio ecumenico Vaticano II, Papa Paolo VI sancisce il profondo rinnovamento della Chiesa Cattolica. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS